Allora, continuo Non finisce più, è infinito il God of War del gioco, mamma mia Ah, dove l'avevo divasto, quindi quello più che stavo facendo Aspetta, andiamo Missioni, obiettivi Palla con Cindy, raggiungi la Asgard Ah, che A non aggiungere... ah, è già Dobbiamo fermare il canto della Noken Dov'è la Noken? No, che no, che no Ah, vedete quello che spara, vero? Il problema è che il mal di testa che viene spesso durante la giornata LOL Mannaggia Bella Noken, Noken È quella? No, non voglio... Vabbè Occhio a sinistra No, non voglio evitare questa la vita RAT RAT Non sa che non è quella Dove sto fare un uccellino che canta Non lo vedo Non lo vedo Eh, cazzo Eh, cazzo No, non mi faccio niente, ma dov'è? Ma su! Veleno di Grimm in arrivo! Che cavolo è? Eccola! Eccola! No, quello è il colpo No, ma quello è il colpo Niente, sto morendo A destra, in arrivo! Non riesco a capire se è quella o il colpo Niente, sono morto Non riesco a capire dove è? A me sembrava un colpo È un uccello verde con una eola intorno Aspetta, non avanziamo Forse è quello Lippi Eh, perché non capisco qual'è che devo uccidere Guardiamo se è questo No, quello è un colpo Non capisco Guardiamo Dove guardare il soffitto piano piano Avanziamo piano È tipo come quello Dove cavolo è la notte? Dove guardare? Fratello, quel Grimm ha trovato un trespolo No, no, no Guarda che qua è Ma forse è questa Ma forse è questa Mirava Lì c'è un'altra Oh, non capisco qual'è che devo uccidere Comunque questa influenza stradiana è peggio al Kobe Doll Ah, forse è ucciso quelli giusti Ma questa si ricarica Sono un'altra Vedi che non si fa niente Vedi che non si fa niente Dobbiamo fermare il canto della Noggle È qua, eh È dentro lì Come faccio la Noggle? Ah, ciao La porta, miseria Ah, l'ho ucciso Ah, ce l'ho fatta Che? Ah, che è peggio del Kobe Ah, era quella Ma ha ucciso la tizia Era quello, giusto Ah Uh, guardi zucche Cosa sono? Zucche? Eh sì, sono zucche Che fanno? Non c'entra niente Non è sta Johnny Zucche Vedo qua Ah, puoi tornare un po' con questo Inganciamo questa Questa è una noria Che fatica Non vanno niente Ah, dovevo rompere qua Ah, capito come si rompe Alla sopra c'è qualcosa No Bella, bella La storia è molto bella Di Ugino, di cose cose varie Oh oh Boss, boss Oh, wait, why you? Oh, wait, why you? Oh, no Che è spustato Dove è? Ah, che è stato preso Oh, che è stato preso Oh, no No, non volevo scambiare la frecce Ah già è la scossa di lei Outa Ah ce l'ha con me Guarda che sto dito E' troppo veloce Cazzo il veneno Ah non c'hanno anche le risuscite cavolo Deve compare la risuscita Mi lagga Ah forse Ah no no se li perco Forse è il twitch C'è il mio video Ah qua devo lanciare la bomba Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Goil che mi l'ha fatto Eh La mira di buff Cioè ho scavartato il colpo come non posso preparare la staffa? guarda che è una musica cazzo guarda che è una musica ma no mi ha fatto il chiaffo lo sminchiato lo sminato non lo sminchiato è tosto eh tocca è troppo veloce è troppo veloce è troppo veloce a sinistra non mi segue aiuto no 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 che pietra di suizioni e berserker Non abbastanza soldi 20 Cercavi qualcosa Scusate Salute Non posso comprare questa Per pochissimo, è mille Perché mi serve la pietra Niente Tu scegli io creo E ora freia Ho fatto tutto Vediamo se Faccio consigliati Non lo fa fare Vabbè Ci rivedremo Ah Fermaturo Un incantesimo Un nuovo incantesimo Vediamo E non è qua Non matura No Frisamento è automatico Non mi mette Sì, giusto Mh, questa è venenata Ma ho messo questa Preferisco questa Colpo critico Sì, questa preferisco questa Ammo detto Va bene Questi Sì, scusa Ma questo non ce l'ho Ah, ok Sì A posto E non so se vendere uva Per comprare Rispetto alla risuscita Se non ce l'ha fatto Al tuo servizio Che posso fare Per te Ma queste mi servono Ma l'ho fatta Non ci attira nulla Buongiamo Dove eravamo prima Ah, vero Giusto Abilità Allora Qua è tutto completo Ah, lei Non fece un unico Fischio di danni Quasi non aumentati No, completiamo questa Ok, questa è tutta Completata Dal Cere Dopo la prossima Facciamo questa Andiamo Adesso Non dare Perché non mi ha messo L'indicatore Era in giù Ah, qua Giusto Il martello Il martello di due E si girate All'interno Il martello È stato Ah, la posso riportargli Il martello Punto blu C'è un casino C'è un casino Di missione Di missione Odino Torniamo in città Sì Che c'è da fare Una cosa Dove consegnare Un oggetto Alla taverna Al padone Della taverna Voleva un martello Che l'ho trovato Non è che mi ricordavo Di aver fatto Quella missione Si è un casino Di missioni secondarie Franco 80 metri 70 metri Ho eliminato Una pattoglia Di aineria Ora la zona è sgombra Ma non il resto Della città Un esercito Di occupazione Non è male Per ridurre Il traffico Pedonale Eccola qua Ancora voi A causa vostra Gli sgherri di Odino Stanno marciando Intorno alla città E tu chi sei? Stiamo uccidendo Tutti gli aineria Che troviamo Se ti consola Ehi Ehi E' meglio Se ne parliamo fuori Questo è un ambiente pacifico Devo consegnargli Un oggetto Voleva un martello Io l'ho trovato Un martello E questo è nuovo Ah questo Eccolo qua Tieni Non significa molto Con gli scagnozzi Di Odino In città Ma quando la gente Lo vedrà Saprà che non ci siamo Ancora arresi Non del tutto Uh mi ha dato un trofeo Ci sono casino Di missioni da fare Non mi sarei aspettato Di rivederlo Uh mi ha dato Un qualcosa di nuovo Spacca montagne C'ho la lancia Che mi dimentico Sempre gialla Dopo te la faccio vedere La lancia Questa lancia Ho preso Ho trovato Una nuova arma La vede Che figata La lancia Per uccidere Quel boss Che non ce la faceva Usare la lancia Mi è Dimenticato Durlin Gratos Volevo scusarmi Per come ho parlato Di tua moglie Ah si prima Non devi No Voglio scusarmi La lancia Del padre di tutti Contro la schiena Ti spinge A sistemare Le cose Ah ma è di Odino Quella lancia Mi basta il tuo silenzio A riguardo Beh Se lo dici tu E' la lancia Dugino Figo Ma l'ha detto lui Parlavi di resistenza Invece Stai bevendo Ho dei piani Che non immagini Si materializzano Mentre parliamo E intanto Non voglio Che le parti Della mia anima Raggiungano Alfaim Totalmente Sobrie Quando gli Aesir Mi prenderanno Non voglio Sentire un accidente Ah Poi Tu mi fissi E' difficile Non fissarti Se i nani Avessero avuto La tua forza Odino Non sarebbe mai Riuscito a ridurre Così questo posto La forza Ha poco a che vedere Con il corpo Eh Già Quanto cazzo parla Durlin Devo ringraziare voi Per la rietta Pulita che mi sale Nel naso Abbiamo spento Gli impianti Ma bene Farò finta Che abbiate seguito Alla lettera I 97 punti In materia di sicurezza Che descrivono Le norme di funzionamento Manutenzione E spegnimento Dei suddetti Impianti di estrazione Come vuoi tu Beh Grazie comunque Davvero 97 punti Ammazza Ah Ha finito di parlare Tu che vuoi Ah no Basta Doi tornare indietro Ok Andiamo ninne Andiamo ninne Picciotti La lancia Allora Lasciata la barca Di qua mi sembra Giusto Sì Completiamo Arte secondare Era questa Stavo facendo Quello qui Ma non mi ricordo C'è la memoria Dunque c'è Di qua non c'è niente Ma questi sono di boss Da fare Che Di cose rosse Sono di boss Secondari Sono facoltativi Boss Le cose rosse Sono di boss Facoltativi Da fare Eh sì È qua che stavo Combattendo Prima Questo L'ha Parso Prima Ok Andiamo Una rete Ma I polmoni No Non va bene Cosa Quel dannato enigma Di brock Cos'è che diventa Più grande Quanto più ne togli Non può battermi Così Se sei così Arrabbiato L'ha già fatto Riesci a risolvere Questa Diventa più grande Quanto vai Avanti Il bambino Ah forse hai ragione Hai ragione Non è niggia Ma che me l'ho porto Da Da Quattro live Da te live Il bambino Hai ragione Mi sa che hai ragione Il bambino Non è qua che non dare Siamo di sì 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 Giusto Di qua C'è qualcosa Che Ah già Questo Come si fanno Uccidere qua È bene Che l'ho ucciso Una volta Di questa Come ti faccio Vedere la lancia Non esco Il colpillo Quello Poi si Potevo farlo Esplode Che come si fanno Ah con questo Esplode Bene Non esco Il colpito è quello Che mi danno Certo Se lo prendo So che non riesco Vabbè Lo trovo in un modo Ho usato la lancia Contro quello Che tentone Sì Non mi ricordo che mo' si faceva così Così, ok Sarà? C'è una figata Me l'ho dimenticato che ce l'avevo Non posso comparire gli suicidi che hanno abbastanza soldi però Dove è il boss? Sparito Ah, eccolo Ah, eccolo Da che cazzo Ah, il bambino è Ateus Ah, dicevi, quello è ancora là Dal tizio Grimmin arriva, è veloce! Questa picca Grato Stai bene? Ah, mazza No, no, è troppo forte Mi sa che vengo più avanti Ah, ho visto una cosa mentre che battevo Voglio vedere una cosa Un passaggio c'era Di reale se ci posso salire Scusami, voglio vedere una cosa Ah Ok, se una mazza mi dà Quella di confensa In arrivo, da dietro Che brutto colpo Stai bene, fratello? Ma cazzo E' troppo forte Forza Gratos Rialzati Ah, bene, bene Andata bene No, no, lo faccio dopo questo Tanto lo faccio accoltati io Quello Faccio più tagli Non esco ucciso Però cosa c'è qua? C'è un tesoro perduto Che c'è un vicino Ah, devo uccidere per forza Quello che mi dà Ah, tesoro perduto Dietro quello Non so se avanzo Ah, non posso avanzare Stavo facendo Mannaggia Eh, troppo forte Non voglio sconfiggere Che c'è il tesoro Grim verso di te Guarda quanto mi toglie Quella lancia Dove imparare A usare bene La lancia Oh, i didn't just lift La lancia Ok, ok, ok. Grim, verso di te! Oh, questa l'ho sentita, fratello! Abba! No, cazzo! Ce la stavo facendo, eh! Ops! Ce la stavo facendo, eh! Con la lancia! E se uso questa? Aspetta! Il soccorso non ho ancora uguale, ad usare il soccorso, magari faccio più danni. L'uso alla scossa! Oh! 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 Questa l'ho sentita, fratello! No, è troppo forte! Cazzo allora Non esco a battere Prima gli ho tolto un bel po' Non ho usato questo porto C'è anche questa che lancia la spalla Lancia Così è flotto Ma questo si pese una volta Cambio di frecce Non è vero che attacca Dietro, attento Non preoccuparti, ce la puoi fare Eh sono morto fratti Scappo Né? Bella, mira che ho Ma va, da te il beleno 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 Andiamo a faccio ammazzare la tizia Ma cazzo, quasi Buona sta tattica Ciò che ci vuole un po' Che lancio le cose I sassi Quelli che esplodono E' buona sta tattica Quello A destra fratello E' buona E' buona E' buona E' buona E' buona Dov'è? Perché c'è davanti Feia Che frutto colpo Stai bene Fratello non è la musica veleno dietro di te a destra ma guarda che si incastra nel riposo non è la musica 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 Che c'è qua dentro? Ah, l'ho già fatto Guarda, qua ho fatto tutto Qua che dondale Un'altra cosa che ricordo Di quell'opera greca di cui parlavo E spero che questa critica non ti offenda E che l'esibizione consisteva quasi Unicamente in una serie di discorsi E notizie terribili Ah, l'ho già fatto Piuttosto di una mera descrizione Di eventi, avrei preferito la loro Drammatizzazione La tradizione greca vuole che una storia si svolga In un unico momento e luogo Ininterrotta, così risulta più chiara Se lo dici tu Mmm, qua c'è roba Panko, hai visto? E forse ho capito come si fa andarci Aia Sedino Usare la mano a questa cosa qua Da qua Ah, qua c'è un boss Lo facciamo? Ah, prima dello scoprire questo Non voglio usare questo Impressionante Un'altra lapide di Berserker Eh Ah, sono le mie lance C'è un boss facoltativo Facciamo, vediamo com'è Se non me la fa Ah, ok Ah, ma pensavo che era stata La magia della mia amica Invece era la sua Perché sono anche lui Anche la mia amica è la scorsa Non l'ha fatto confondere Che cazzo è? Per superare loro Ma senti che dice Stosto qua Guardate che sto qui Oh, non riesco a cambiare Oh, non c'è Non è troppo forte Mi sento tutto nel bambito oggi Lo Questo è troppo forte È come quell'altro boss Che ho trovato Questi vanno fatti Verso la fine del gioco Secondo me Facciamo l'ultima volta Che non ci capisco niente È troppo veloce Che non ci capisco niente È troppo veloce Secondo me Questi rapidi Vanno fatti Verso la fine del gioco Basta Basta Noi c'è qualcos'altro Questo è il boss Che mi ha segnalato Giusto? Qua c'è qualcosa Qua Senza salancia Ho potuto fare Questo passaggio Oh, portato Parla, spirito Sì Padre Non ti vedo Non sono stato abbastanza veloce Scusa se ti ho abbandonato Tuo padre è morto Cosa? Come? È andato a cercare l'altro tesoro da solo Per risparmiarti i pericoli Nel tentativo di proteggervi l'un l'altro Poi torniamo dal padre Perché? Per chiudere la questione La ruota idraulica non riceve acqua Sì Andiamo a prendere Oh C'è un uccello Eh Seppuriamoci a passare mezz'ora qua Per capire come Uccide l'un uccello Forse è da sotto Tipo Poi è da sotto Qua è chiuso Perché mi fanno venire qua? Addio Ah che addio Ah stacchi Capito No Non posso arrivare Non ci arrivo il colpino Ah Capito Cosa devo fare Con la lancia Con la lancia Ah 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 non posso andare a scendere Ma vabbè andiamo di qua Su quell'isola sembra esserci qualcosa Forse il tesoro di cui parlava lo spirito Potremmo usare quell'elevatore Ma non da lassù Un boss o oggetto Ah andato quello di quello Andato così di questo Ce l'avete fatto il vostro Kratos spettacolare Continuate così e diventerete un bel esperto Non capisco se è condiscendente o semplicemente triste Entrappi La voglio abbassare Così posso andare Ma qua c'è uno schiglio Questa c'è un bel esperto 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 Ok Questa c'è un bel esperto 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 La grata è abbassata Ma deve restare così Ah Questa c'è un bel esperto Allora... Un ingranaggio, vedete? Collegato alla grata. Un ingranaggio, vedete? 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 non ho capito cosa ha detto che bel bottino ora capisco perché era così importante per quei due marinai forse dovremmo dire al padre che ne è stato di suo figlio ha trovato la roba allora prendi un uccello e qua è più lontano la statua del nano che abbiamo visto chi raffigura? Alvis Piedipietra guardiano di Svartalfheim so saggezza e potenza per imprigionare alcune delle creature più pericolose dei regni la fa Oh 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 Quasi Hmm 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 E' un po' di più. No Mh, vediamo se lo soffiede Ma l'altro è come difficile prendere queste cose Qua, incolvi Ok, non si scusa, è quasi così Ok Ok Ma non si può scendere l'uccello qua Forse qua What the... Hmm E' un po' poco spazio qua E' un po' poco spazio qua No, per forse la sopa da, da, da qua E' un po' poco spazio qua E un po' poco spazio qua E' 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 un po' poco spazio qua Ah, lo so' poco spazio qua E' un po' poco spazio qua E' un po' più. E' un po'... Non so cosa vuole scrivere. Non mi piacciono, venitmi. No, niente. Non da lì. C'è una luce che è buio. Ah, grazie per il look, panca dopo. Puliscono il bambino. Eh, che qua c'è? Vabbè. Non dappi la mappa. Aspetta. Eh, io prendo la... Eh, ecco. Non è dito. Vai. no solo perché non ne hai sentiti di belli tipo da giovane sono alta da vecchia sono bassa una candela si lo dicevi già no beh ti è piaciuto no Dov'è che non dà di qua? Di qua? Non, non dà di qua. Di qua? Di qua? come faccio passare di qua la piaccia ti ringrazio scegli pure disinfetto gli attrezzi aspetta però io voglio fare una cosa prima mi assi idea scusa riscaldo la cucina ah ecco oh amore si sa la non e 9 ah cercavi qualcosa qualcosa per freya funziona dimmi di sì fammi ragionare lo faccio rivelo te che si fa questo è bugato tu scegli io creo vuoto no ora prendersi non tu vuoi non 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 metto questo qua adesso no, anzi è meglio questo no va bene così abilità allora completiamo questa questo non posso fare questa niente però aspetta ok ok a posto adesso torniamo dai codi no non è qua beh consegniamo la roba ai cosi mi scogliattolo come posso aiutarvi maestro Kratos come richiesto che cuccioletti irrequieti ma sei sempre stato uno scogliattolo abnorme e immortale avete dimenticato bellissimo no un tempo ero uno scogliattolo normale grande quanto la mia piccola versione spettrale direi ero insignificante mi sono imbattuto nell'albero quasi al termine della mia vita come vittima di un episodio di casuale furia predatoria ma l'albero prevedeva altro per una creatura insignificante come me ma mi sto dilungando troppo vi lascio in pace Mastro Kratos viaggiate molto e in sicurezza amici miei ok viaggiate molto e in sicurezza tu capisci quando una conversazione è conclusa vero? si andiamo nei codi questa cosa è successo? ok non è nei codi eh? parla Rock quando hai conosciuto Faye? era ti fermo subito amico Rock non è il tipo che fa confidenze nemmeno quando si tratta dei cari estinti non mi pare che io vada in giro a raccontare i fatti tuoi o sbaglio? i fabbri non chiacchierano è così che deve essere mamma mia spero che passi pesto ok è peccato mi dispiace è in pericolo perché con te era al sicuro vero? non ha mai rischiato di morire no nemmeno una volta non sono qui per una lezione lo so offre la casa nuovo programma fedeltà per i clienti eh sto bene sono un po' stanco in sto periodo sono stanco stanco non so perché beh questo eh ho parlato col tizio prendiamo capiamo lo schigno va questo mancano due schigne da più cosa mi ha dato? uh alito danno questa è buona ma è che tu vengono qua Terribolo anzi Perché sono colpi dispersi Sono anime di persone Secondo me Mancano due Uno e due Non so cosa succede se le happo tutte e due Continuiamo a fare Le missioni Allora però voglio vedere la mappa Una cosa Ah non posso vedere C'è tanta roba in questo gioco Tante canne al fuoco C'è un casino di missioni secondarie Da fare Questo è il colpi Giusto Sì Qua cosa c'è Posso andare qua Qua non mi faceva andare prima Adesso mi fa andare Forse perché ho trovato i colpi Ecco gioco Andiamo a vedere che cos'è Questa missione Bene Vediamo in che buco di muspelheim Ci porterà quel seme Ah perché ho trovato il seme L'ho consegnato ai Al babbo Mi ha fatto Aperto praticamente Mi ha aperto questo mondo Figo Ci sono i semi Ho capito C'è sta voce che mi mette l'ansia Mi sento quella Le voce di cose C'è solo questo Da fare Mi sa che c'è qualche boss Molto forte Siete qui per fare casino Immaginavo che non avreste rinunciato A un altro giro di prove Di combattimento Ma pensa Il seme ci ha condotti Alla prova di Surtur C'è C'è Infatti c'è Devo combattere contro qualcosa Franco Tu non mi riesco a dare Il primo sto mondo Che c'è da luttare Ho visto Tu chi sei? Cos'è? Si fa niente Ho già visto Questa spada Contiene le sfide Di combattimento Che cazzo Il mondo è Mi sa che c'è Un boss Se spiace Il tondo E' tutto E' tutto Una boss fight Troppo Perché ho visto Dove c'è la Nello schiglio Che c'è un'altra boss fight E' da qua Mi sembra Da l'ho visto Qua sotto Si C'è un due boss fight Ho trovato Pino Ora Faccio un'altra Secondo me Ok Ho un'arena Questo Tu vuoi Guarda Ah Devo fare Te boss fight Perché si attivano Le lettere Allora Sono tre boss fight Ho capito E poi c'è la boss fight Finale Qua Perché questa è un'arena Ho capito Sono le sfide Del cociolo Che c'è Non c'è Un coso Un god of war Percedente Le sfide Del cociolo Forse E' un'arena Per i primi N'hanno Messe Allora Facciamolo Vediamo Che cosa succede C'è qualche sfida Che ti attira Eh Sapevo Io Uccidi Le rite Menti Mentre La proporzione Sotto Un minuto Vediamo Dalla pollinazione I nemici Fuori dagli anelli Fino Tempo Scalare Sì E' un god of war Percedente Mi sa che Proprio Prima Di questo Giorno �� Che Non No 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 in guardia da dietro in arrivo quindi tutti i nemici Wow Wow bello una magia nuova molto fallita perché ho messo troppo tempo quindi sta finendo ah no 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 ancora ce n'è ancora tanto no no c'è ancora tanto da tanta roba queste sfide facoltative se vuoi fare vuoi scaldarti prima di scegliere scaldamento vediamo a sinistra dietro di te occhio alla tua destra bravo così rato vai a adesso che cosa? no che cosa è che cosa ha fatto? ahhh che cosa ha fatto? ahhh che cosa ha fatto? ahhh 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 ah gli tovalli fuori gatti non posso non ho capito dietro occhio dietro di me dietro di te attento non ho capito come funziona vai usciamo dal mondo ci sono sfide che non so come si risolvono e chissà che l'incompensa c'è dentro lo schigno però non so come si risolvono posso sfide eh? ah mi indica il combattimento dove si esce? no 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 proprio se praticamente sconfiggio i boss quelli di gandhi però mi appena lo schigno sono che boss fight però non ho capito come si risolve quella missione qua vedi che ci sono dei numeri li facciamo dov'è? non ho mica capito come si risolve praticamente andiamo a fare questa giri una specie di di faggio per esempio configgio tutti i nemici questo è facile qui si mette male al dito a sinistra ma dove sono? ah ecco magari devo venire qua qua ci sono più fuori non ci sono più eh fuoco alle tue spalle sui 157 suoni vai a fuoco Kratos passerà sta dietro in arrivo qui cazzo sto potere questo è un muro cambio freccio no non voglio cambiare freccio no non no sono toppo toster se qua si vanno fat ah no 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 non 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 mi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Dov'è venire verso la fine del gioco Bo bo Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Come faccio andare? Ah, da qua. Faccio tatatata e tatatata. Ok, andiamo da qua. La. Guarda la barca. Ah, qua sotto. La. Oh. se lo nomini lo rompi a che cos'è silenzio esatto non rispondevo all'enigma bella se lo nomi lo rompi silenzio sono un po come le battute che faceva è lì l'art of the house e qua come andano ok acqua abbiamo notizie per te vi prego è morto mentre cercava l'altro tesoro non sapeva lo stessi facendo anche tu no, no, no è tutta colpa mia ti ha disobbedito sì, perché è ciò che fanno i figli avrei dovuto portarlo con me saremmo vivi e ricchi oltre ogni misura insieme non è colpa tua ora riposa in pace comunque grazie per averlo trovato mmm sono molto contenta si e sicuramente lo sarà anche a treus si bella sta mission tutto qua tutto sta nel boss beh il boss è quello lo lasciamo lo lasciamo qua c'è un altro boss rapido il besetto ha messo anche che quello eh il besetto non riesco a fare qua portale e questi non ho visti poi non so come si fa arrivare come faccio arrivare lì non so come che segna lì per curiosità fratello perché non ami gli indovinelli sono frivoli incoraggiano a pensare senti questa davanti a te hai tre porte in una c'è una buca con delle lame appuntite nell'altra un drago e nell'ultima dei leoni che non mangiano da mesi quale apri? la prima una buca con lame appuntite si può evitare e invece dovresti aprire la terza perché i leoni che non mangiano da mesi sono morti eh? questo mi piace non ho pensato la porta con gli oli non gai non gai non gai ah si mi sembra che do a tavversare il pub la taverna qua vediamo se portano qualche buona notizia senti vediamo papà dove è la macchina? un guardia kratos senti c'è un nemico qua? bifrost a sinistra ben fatto anche se non credo che altra violenza per le strade convincerà i cittadini che il mondo esterno è sicuro mia mamma ha fatto perdere il filo non da pa' ah ecco il mondo è la ok oh uno schigno aspetta come faccio ad andare a prenderlo? mmm c'è uno schigno lì come faccio? ah da qua guarda come faccio? lo metto un po' più in particolare ma ho detto il gioco quanto così ah l'ha messo un fiore ah da rival è lampospino oh sto raccogliendo tutti i fiori sto facendo la missione della ragazza di feia cari dico di raccoglie tutti i fiori in tutti i legni benissimo cioè l'ho venuto per prenderlo filo aì ah 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 aì che gli occhi che sono Nell'aggiungere qua come faccio andare Non è scritto quella stata mi perdo sempre C'è anche un uccello Dov'è? No mi fa tutto quello per sbagliare Questi sono bastardi Sono bastardi questi qua Attento fratello sei coperto di bifrost Mi sono incastato non esco a mo... Mamma mia... Avete creato la lancia Aspetta, no, deve essere Brock Affirmi che cosa è successo Farò finta di non essere mai stato qui Non ha modo di comparare scivista Sono qui per te Che posso fare per te? Al tuo servizio Non posso vendere roba, scusa Come sempre Volevi solo salutarmi? Si? Dove è il farco qua? Il colvo? Lo senti che fa? C'è qualche colvo in giro Cos'è quella roba lì? Aspetta un attimo Ah niente niente Eccolo! Dove è la barca? Non c'è un attimo Non c'è un attimo non c'è niente ora ora do andare qua voglio vedere cosa c'è qua un tolso prima do andare qua il silenzio non parla ci vorrebbe una musica qua dovevo mettere lo stereo sulla barca l'auto barca eh barca radio ecco barca radio barca radio il troppo rilassante qua ma ancora dito ah cazzo non si posso andare la non è mai andiamo lì come faccio andare qua minieri buh comunque aspetta la cucina la cucina mi fa andare qua penso che devono andare qua ma mi rimane mi sembra imparare un passaggio mistico so io come vuoi fare ha già sbagliato ha già sbagliato mi sembra mi sembra mi sembra che è mica che è che è che è preciso è quella del precedente gioco eh non posso dire feia si chiama ha aiutato a scoprire chi è la mamma di ateus di ateus praticamente sta ragazza nel gioco precedente oh ho usato il teleporto sempre qua devo andare qua che secondo me se vado qua dove è eh non mi fa vedere il cavolo vabbè non mi faceva vedere la mappa scoperta ok adesso me la fa vedere praticamente non andare qua che secondo me mi fa andare in questo luogo perchè io voglio vedere cosa c'è qua dentro qua e qua voglio vedere cosa c'è questi due cosi che non ho ancora visti la faccio per andare lì non andare qua di qua ora qua c'è una boss fight che mi sa che è bella tosta che l'ho già tentata di farla adesso per andare là come faccio ah devo prendere il tenino ok ci siamo adesso ho capito è un pallo perchè sono andato a scoprire perchè non è la missione principale guarda guarda è tipo la metropolitana questo come si chiama come si chiama quando sta lì è davvero fino via ecco è la giusta attacatus che è la lotta questa oh allora in questa galleria qua si va di qua penso di si no questa l'ho risolta questa quest l'ho trovato gli ingredienti per per notizio qua qua è la strada mi sembra di sentire un colpo non fosse la mia immaginazione dove è stata la galleria ci vuole essere una caverna io non la vedo ah eccola l'ho vista è qua è qua è la strada adesso è giù di qua sto cercando una caverna forse è qua 32 39 metri eccola trovata qua sotto è la piero di mob speriamo che non ci sono ancora l'ho sconfitto l'ho sconfitto un po' eh io li sento cazzo che fanno rumore mi sa che ci sono ancora oh ma adesso è riuscire da solo devo riportarmi qua all'uscita qua che qua ce l'ha riuscita la cavella per andare a camminare su questa strada ah qua mica ho guardato cosa c'è adesso non ci sia niente ah i mob una volta sconfitti non ci sono più meno male mi son perso dentro le caverne penso che sto tornando eh sto tornando indietro e meno mi mettiamo i segni così non mi perdo allora di qua forse di qua metto il segno forse di qua no è chiuso qua qua dove era ah di qua forse sai che sono quasi riuscita eh scusa affetta mettiamo il segno così a meno aspetta questo posto doveva andare qua no giusto ok di qua doveva essere riuscita di qua questa qua questo pezzo qua ah si l'ho risorto ci mani il specchio per aprire di là qua eccola qua riuscita che cos'è ah no l'ho già guardato qua che c'era il cadavere che ha volutato il cadavere poi mi ha detto che cos'è quanto c'è qualcosa che dice che cos'è c'è qualcosa nascosto ho notato però che mi hai visto cosa c'è però devo guardare dove guardare non mi sono arrivato non capisco adesso è rimasto quasi chiuso qua dentro questo è scoperto che trova riuscita forse l'acqua che non ho guardato bene no no questo l'ho urtato l'ho urtato dov'è l'ho urtato? mi sono perso la porta l'ho urtato l'ho urtato mi aspetta va bene Cazzo l'uscita è qua sopra, non si può uscire da qua Eh si Perché io non andavo in questa area, come si fa ad andare? Ma il tunnel è questo Si vede BUUU No, penso che dovevo uscire di qua, ah niente, allora non si può andare, tanto che non posso pittonare indietro Volevo battersi boss Niente, ecco Sono venuto qua di niente A meno che non passo di qua E qua non l'ho guardato Perché io sono intanto da quella botola là che è chiusa Ah 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 sono già pieno Eccola l'uscita Si qua mi ricordo Non fa niente Qua ho combattuto una boss fight Non c'è niente Penso che sia qua l'uscita Non sono già in dubbio Ah no, era per fare No, non ci è riuscita qua, cazzo Niente Sono venuto qua di niente Ah forse è qua No, non c'è riuscita, cazzo Penso che si poteva uscire dall'altra parte E se no E' che spittato Dovevo sconfiggere prima quei boss Non so Niente Scusa però non c'è Eh, non c'è avrai l'arancia Qualc'è il suo minuto qua Scusa però non c'è avrai l'arancia Scusa però non c'è avrai l'arancia Scusa Poi se ho messo la fai niente Pensavo che Si poteva uscire E fare quei boss Cioè allora erano Belli tosti Da sconfiggere Dovevo sconfiggere prima A meno che La lol Le ho fanno tornare qua l'inghetto La lol del gioco Mi fa ancora tornare qua Troppo Più avanti del gioco abbiamo avuto l'uscita cosa potevo mettere il trasporto? c'erciavi così e andavi subito qua invece non l'ho messo non l'ho messo baggheremo un po' sempre dentro qua non lì c'è quello morto non lì c'è non lì c'è non posso lasciare qua ma non c'era niente non c'è ah di qua no, l'altro fatto posto ne faccio scappiare questo che non siamo il mio cavolo mettiamo il segno qua se vado a quella di qua vuol dire che è sbagliato questo vuol segno vente qua è chiuso, chi è che è andato in line? ah in tentazione boh ma se no non c'è un salvataggio dov'è che carica? quali sono? e carichiamo qua boh sono 17 e 23 17 e 10 ah sono dentro la galleria 17 e 0 8 prendiamo qua ah che non ho capito scusa sono l'enso e mi ha pienso alla volta che mi son perso non so come andare avanti perchè io voglio andare qua però non so come si fa andare qua mi sa che non si può più tornare indietro perchè ci sono due boss che ho tentato di sconfiggere però ero senza lancia adesso che ho la lancia magari è più facile magari è più facile so che non so come si fa andare non è che devo camminare? non è che devo camminare? perchè qua ci doveva essere il tenino no non c'è eh si praticamente prendevo il teno facevo questo pezzo di strada e scendevo qua qua c'era fermata facevo tac 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 e andavo qua mmmm hai capito saluta wow sì non è nessuna secondo me da quoi mannaggia sono venuto qua per niente pensò che si porta a tornare andiamo a cercare altre missioni secondarie dov'è prendere il treno allora? oh non mi ricordo mannaggia poi va a caricare qua non vedi che fa vedere prendiamo questo ok ho trovato quello giusto oh lasciamo il teleporto oh pienamente meglio che salvo e beh mai allora vediamo cosa possiamo fare qua qua ci sono i corvi qua ah queste sono le missioni che non posso fare che sono troppo potenti il lago di 9 qua cosa c'è? un alice che guida queste sono le missioni ah c'è una bus fight troppo forte qua manca solo quella la facciamo più avanti qua qua non c'è niente qua c'è un'altra missione forte manca solo la principale adesso andiamo a fare la principale salviamo non so se posso salvare qua scusa che salvataggio ma 17 ah si 43 ore di gioco 44 ore ok ci siamo una parola principale dice che c'è abilità a disposizione eh no sfrega no andiamo dal cassa no niente ah vuole la lancia ok ora tocca a te oh ma guarda qua è speciale quella non serve dirmelo hai trovato come arrivare ad Asgard? ah non proprio ho avuto delle idee ma non erano molto buone senza un modo per andare ad Asgard che facciamo? non lo so devo pensarci sono stanco ah riposito quindi non è successo nulla di strano con la donzella ah assolutamente tutto lescio come un culo perché? hai un tipo di pensare che potessi mandarla in vacca? cosa? no no certo che no mi rallegra sapere che è andato tutto come previsto è così ed è stata una vera avventura ho insegnato a tutti loro ogni cosa sulla natura e sulla forma delle cose un vero motif smettila di inventare parole ho detto che era un motif eppure bellissimo cioè impossibile io sono il più possibile qui in giro non fa niente i discorsi di questi due ah devo dormire dormiamo dormi sulla panca scusa sul tavolo perché? vediamo dove vai fratello? a dormire così continuiamo ad avanzare alla cieca sperando di non finire dritti nel Ragnarok è questo il piano? scherzato scherzato dirà see che sei che se stessa Grazie a tutti 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 Bello Grazie a tutti Non hai nulla da dire a tuo figlio Cosa vuoi che ti dica, Faye? Di qualcosa? Lascia che senta la tua voce Lascia che ti conosca Starà molto meglio sapendo il meno possibile Non sempre la conoscenza è un fardello È innocente Non siamo i nostri Bellissima In questa parte Cazzo, 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 che bello No, cazzo, 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 c che ti ha fatto di male quel muro io mi sto allenando me l'ha insegnato mio padre ah più da di pugno non ancora allora a che cosa ti stai allenando a controllare le emozioni è in dal cercare di farmi perdere il controllo non posso dargli la vita tutto è tutto tranquillo vi addestrate senza di me ed è una buona idea addestrarsi per me è un'ottima idea ma tua madre non si arrabbierà se lo scopri hai ragione ma hai considerato io non quello non mi ha fatto male in realtà comunque nonno vuole vederti oh nonno giusto ok ecco prendi questo e salutami tanto Sif Lady Sif e Atreus a più tardi e Trude ciao che strani ragazzi di Midgard strano può essere positivo voi due che c'è lì dentro latte cagliato mamma lo adora lui aiuta così nonno è nel suo studio ci vediamo dopo ah già recuperare i pezzi della maschera ok la missione di Atreus è recuperare i pezzi di quella maschera ok andiamo ah certo Odino nel suo studio intanto qua posso fare l'esperienza per lui cambiare l'equapaggiamento vediamo un po' accogli ah ma ha dato questo bene oh non male potenza attrezzatura ok ah quanta attrezzatura ah è la chiamata che ci faccio praticamente andate a trovare lui e Odino nessuna iniziativa perché non vuole che uccida Katos vuole che perdoni Katos per le cose che ha fatto nel gioco precedente allora animi non posso potenziali niente questo qua già pietra una colativa di rabbia vado a vado a vado a vado a vado a vado un colore brinco per giallo potenziali potenziali della labbia potenziali ancora Quanto alle vocazioni in unica fase di ricarica Questo è buono Ah che questa possa potenziare Quanto è un'unica Quanto invece lui fa Tutta la roba che ho fatto l'esperienza con Kathos Me la fa usare su lui Ok A posto Qua è il letto per dormire Non dorme più Non ando a trovare Udino ha detto Ok Dove Ah giù da basso Ah posso Ah guarda Ah Udino non è uno che perdona Eh il dia Teus Che vuole Ecco Praticamente a Teus è scappato da Kathos Perché non sa che è venuto da Udino Però Udino si è presentato a Kathos Gli ha detto che Teus è venuto a trovarmi Gli ha detto Udino Perché vuole che perdoni Kathos Che ha ucciso Così il figlio Il figlio di Feia Ecco Ah si dovevo scendere Qui no Forse Udino è giù Nella sua biblioteca Biblioteca Eh contone in biblioteca Solo non mi colla dove la biblioteca Ah è qua Ma non vanno a che il gioco me lo dice Ma di che stai parlando? Io non capisco La maschera Il gigante che ha ucciso i miei figli Per me? Te lo posso spiegare Ma sei tu a doverlo capire Smettila di stare a sentire a tua moglie Sta annebbiando quel po' di cervello che ti rimane Lei non c'entra No C'entrano i tuoi limiti Accettali e volta pagina Ora va a distruggere qualcosa Ok? Francamente ti preferivo Umbria L'ho che vieni qui Finalmente l'ho decifrata Qui ha ucciso Ymir Vero? Il primo gigante Dimmi Si può uccidere una valanga? Placare una bufera? Lui era una forza della natura Una vera potenza Io ero giovane e sciocco E vedi un'occasione per creare qualcosa di più Per te sarà crudele Ma ho fatto ciò che ho fatto Per proteggere la mia posizione Perché costruirci la casa? Che c'è qui? Se devo fidarmi di... Sto cercando di dirtelo Dopo la morte di Ymir Ho visto qualcosa Il raggio Forse l'origine di tutta la realtà Ci ho guardato dentro E c'era qualcosa che mi guardava a sua volta E mi sussurrava Cose che non potevo comprendere Ma sapevo che erano vere Quando mi ha accecato Credevo che non avrei più guardato all'interno E poi ho trovato questa E sapevo che grazie a lei Avrei finalmente avuto delle risposte Sai figliolo Non so dove andrò Quando verrà il tempo Non ci sarà il Valhalla per me Il Ragnarok non può essere la fine Voglio sapere se c'è qualcos'altro Voglio sapere Cosa ne sarà di me E questa è la verità Lo giuro sul mio occhio sano È la verità Questa scritta qui Parla di un alito gelido Alito Vento Deve essere Lime E Lime dici? Ha giudicato Che sono l'olode E io ho la persona giusta per accompagnarti Prima mi accompagna Adesso chi mi fa accompagnare Confido che Saprete gestire questa responsabilità Puoi contare su di noi Non mettermi nei casini Oh quasi dimenticavo E Ingdal verrà con voi No lui no Mi sembra antipatico Che privilegio Per tutti quanti Oh ehi 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 Fermo Per affrontare il gelo estremo di Elime Ti serve prima una cosa È frilla Ti manterrà bello caldo Non ringraziarmi No No Nimir diceva che nemmeno Odino resiste al freddo di Elime E tu credi a ogni parola di quel caprone? Trude Peccato che il tuo primo viaggio fuori Asgard sia Elime Ci divertiremo anche qui Ok Per quanto sia bello farvi da babysitter Il padre di tutti mi ha fidato un altro Se finite nei guai e gridate Così saprò dove sono i vostri corpi Troviamo il pezzo di maschera Dammi le armi Non mi ricordo più come si combatte con questo Allora queste armi normali Eh le fece normali Queste armi potenti mi sembra No forse al contrario Sì queste armi le fece potenti Queste armi normali Queste fanno più danno però con questo Ok Sì sono Andiamo Finalmente posso mettermi alla prova con un vero esperto di Valkyrie Primo gli Elwalker sono nulla rispetto alle Valkyrie E secondo pensavo non mi credessi C'è forza la cistia Ah è vero poi mi ha regalato una spada Io credo che hai combattuto contro le Valkyrie Solo non credo sia stato il nonno a corromperle O a causare la desolazione a Midgard O che abbia fatto uccidere tutti i giganti Ho detto tutto Ehm parecchio Dove è stato eh Aspetta un minuto Ah di qua Eh la spada per farlo Non facciamo usare la spada Cos'è? Ah figo Cosa per Arampicarsi Non mi ricordo C'è un modo per usare la spada Che sono Sulla Altri Elwalker Ci penso io Cosa? Dovrei stare a guardare? Ma no Ma già Mi ha regalato fino quella spada Ah È davvero bravo Incuba Ecco un tipo a usa Quale è squadato? Quali altri crimini afferrati ha commesso mio nonno? Vediamo Ha decimato Vanheim Torturato Tyr Ha assassinato Groa Ha assassinato Ymir E la lista continua Interessante E dove l'hai sentito? Da Freya e Mimì Oh dai L'ex moglie traditrice E l'ex consigliere rancoroso Bene Senti Non mi credi ma Certo che no O mi stai raccontando Balli O sei un ipocrita per averlo aiutato Possiamo pensare alla missione Io vedo una cosa Se ho lasciato qualcosa indietro Fatti qua Ok Ok andiamo Ok andiamo Ah 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 per cercare la maschera L'altro pezzo della maschera Vero Non mi ricordavo cosa Ho capito Ho capito L'altra parte Non dare Ho trovato la strada Per che mi Passa il cancello Ok Questo Questo? Ci serve con la botta La bugia Che c'è un'uscita Lì Guarda la roba Ah c'è un uno di qui Dove? Ah è là Ah è là Ah è là Tante spada Una spada con un'anima Tante spada 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 Tante Tante spada Tante Tante spada 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 Tante spada